Signore, padrone, si 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 accomodi subito Dio il capotto anche a me E' inzuppato, certo ho notato che piove fortissimo fuori cielo, una tempesta Ma non era dentro la macchina lei? Ah ok, la riunione è stata annullata Per via del tempo Ho capito Ma aveva un ombrello con lei? Avevo detto ad Elia esplicitamente di portare un ombrello Non mi dica che l'ha dimenticato di nuovo Deve fare soltanto una cosa quel ragazzo, io non lo capisco Se ci fossi stata io con lei di sicuro non l'avrei dimenticato E' colpa mia, è colpa mia perché ho incaricato qualcun altro Quando in realtà avrei dovuto fare il lavoro io No si, me ne do una colpa perché se avessi avuto un ombrello a quest'ora non sarebbe così Zuppo d'acqua Comunque non perdiamo altro tempo, sto appoggiando per un attimo Il capotto di lì non fa niente e poi lo asciugheremo Tanto non è l'unico capotto che ha Però lei deve asciugarsi il prima possibile signore Sì sì, sennò prenderà un raffreddore Lei è delicato, è delicato Allora sì, ci penso subito Lei si sieda sul divano Ci penso io, ok, ci penso io Ah, per prima cosa Da quant'è che è apprestuta quest'acqua? Mi faccio controllare, voglio vedere se ho la febbre No, sembrerebbe di no È un po' accaldato ma non ha la febbre Non gliela misuro neppure con il termometro Non ce l'ha, non è a rischio Però, ora, l'unica cosa che deve fare è stare al caldo In modo tale che sicuramente l'indomani non si sveglia con la febbre, ok? Perché riusciamo a intervenire il prima possibile No, non sono premurosa, faccio il giusto Perfetto, allora Innanzitutto asciugherei un pochino i suoi capelli Perché li ha molto bagnati Ok Sì, si avvicini Ok 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 È completamente, completamente bagnato C'è anche del vento fuori E a quando è stata posticipata la La riunione Ok, fra una settimana Perché è prevista Così tanta pioggia Ah, c'è tipo una sorta di allerta medio Capito Alzi leggermente la testa Grazie No, padrone Sono così dispiaciuta Sì, sì No, non è soltanto un ombrello qua C'è di mezzo la sua salute Non può rischiare di prendersi un malanno Io precederei Si tolga le scarpe Sì, sì, sì No, i piedi non possono essere bagnati O umidi Perché Se sono freddi i piedi C'è rischio di Che si raffreddi Sì, sì Le tolga pure lì Penso io poi a posarle Mi dia Mi dia il piede Ok Perfetto Perfetto L'altro piede Ok Ok a freddi, sono congelati però per fortuna il camion è acceso quindi si riscalderà in mente non si sica ok sarebbero asciutti adesso ho anche le mani ovviamente certo, mi dia le sue mani certo che le mie sono calde è normale sono stata qui al caldo quando lei stava prendendo tutto quel freddo mi sento così in colpa mi può porgere l'altra mano grazie oh oh piano piano stanno riscaldando si ok perfetto la ripongo un ultimo qui bene allora io vado ora a prepararle un po' di tè caldo così oltre ad essere asciutto e accaldato e riscaldato fuori lo è anche dentro desidera desidera un tè nero o un tè verde vado per il tè verde immaginavo bene è il tempo che metto l'acqua su a bollire e lei prenda quella coperta che avevo già preparato si si e si siede un attimo lì perché ho pensato dato che abbiamo questo tempo diciamo libero a questo tempo libero ho pensato di darle una spuntatina ai capelli che dice che avrebbe dovuto taglierli ieri ma non ha avuto tempo è giusto una spuntatina veloce qualche ciocca che lega dei suoi capelli che dovrebbe essere un po' più corta no a me a me piace questo taglio ma sa bene che vostro padre non vuole per per le riunioni perché lo reputa un un taglio poco professionale come dice lui non è assolutamente per scelta mia lo sa bene lei è perfetto così per come sempre ha i miei occhi bene allora approfitteremo a che ci sono darò anche una piccolissima rasatura alla sua barba che è leggermente rata lei lei non ha tanta barba però è meglio avere un viso liscio giusto? sempre per lo stesso motivo di prima suo padre bla 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 lo so lo so che le piace tanto la sua barba lavorerebbe più volta no di nuovo per me è così perfetto così per com'è no è davvero quello che penso comunque basta solo una chiacchierona vado a preparare subito il tè lei si metta comodo e poi diamo una sbottatina sia ai capelli che alla barba d'accordo? bene arrivo subito eh intanto eccomi allora qui qui ho preparato il tè faccia attenzione perchè è molto caldo dai va si lo beva pure tranquillamente appena finirà può dare a me la tazza così la poso e poi la pulisco allora innanzitutto togliamo questi ciuffetti ok? che dice? bene allora allora io ho già messo il il dallo un attimo ok? io l'ho giusto in modo che che i peletti non le vadano sui vestiti ok? mi avvicino leggermente ok? 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 ha una ricrescita dei capelli abbastanza veloce ha una ricrescita vorrebbe vorrebbe farse allungare sì immagino starebbe bene mi alzo un po' eh no non può ok? esiste un attimo una riga che poi non ha una vera e propria riga questi capelli sono come il proprietario leggermente leggermente sono molto morbidi sono lo shampoo che ho detto di comprare ad Elia almeno quello l'ha comprato bene è stato un buon acquisto ha reso i suoi capelli veramente morbidissimi è vero che già lo erano prima già da prima grazie grazie mai come i suoi bene io direi che abbiamo fatto come gli avevo detto un secondo un po' forse qui non era un lavoro invadente era giusto una spuntatina giusto a quei ciuffi che purtroppo hanno tagliati bene lei innanzitutto come si sente? sente ancora freddo e infreddolito immaginavo meno male ha quasi finito il suo tè si si faccia pure con comodo allora le piace? ok bene passiamo alla barba ok allora ok non ne serve troppa perchè tanto comunque ha giusto un pochino di ricrescita ok 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 la mescoliamo per bene la mescoliamo per bene la mescoliamo per bene questa questa schiuma è la barba è la sua preferita si quella molto intensa al mentolo e al ciclamino ok ok allora spalmiamo le burpline come ok 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 è ok 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 Grazie a tutti. Come lo mangerà per cena? Deve mangiare per cena? Non ha fame? Deve sforzarsi. Lo sa che non mi piace quando non vuole mangiare. Non sono troppo apprezziva, il fatto è che non bisogna saltare i pasti. O meglio, non è che il digiuno faccia male, però... Lei ha bisogno di energie e poi lei è in perfetta forma, quindi si pensa di dover dimagrire. Non è per quello. E allora per cosa? Se non vuole parlarvene capisco rispetto alla sua privacy. Va bene. Mi manca giusto l'ultimo punto. Allora... 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 No... Allora... 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 e ora l'altra parte in questo modo un pochino contro per il pello bello bello metti qua una parte dei maschetti ok abbiamo quasi fatto peccato che non vuole mangiare perchè oggi c'era un bel stufato caldo so che le piace molto con patate a forno si si frutta fresca ho presa questa mattina c'era davvero tanto tanto cibo la signora Arianna ci rimarrà male se lei non mangerà quello che lei ha cucinato non è giusto nei suoi confronti no? ho finito e allora ci pensi per quanto riguarda la cena di oggi eh mi promette che ci pensa e poi sappia che penso che ormai comunque questo sia scontato per qualsiasi problema se c'è qualsiasi problema che le affligge se vuole parlarne se sappia che io sono sempre qui a sua disposizione quindi non deve nemmeno preoccuparsi minimamente di dirmi o non dirmi le cose se vuole davvero vuole confidarsi allora sappia che io sono qua ora le asciugo il viso leggermente umido ok e direi che abbiamo fatto si media pure ok ok grazie sono contenta che le sia piaciuto allora la faccio qui ora io finisco di pulire la stanza di sopra mi mancava soltanto la manzarda di sopra quindi lei si metta comodo riposi pure dorma ha bisogno di dormire e e poi per quanto riguarderà la cena appena si farà ora io salirò e mi farà sapere se va bene per lei ok buon notte signore a più tardi a più tardi sperimenti non i Grazie a tutti.